ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco androccur soluzione a rilascio prolungato buyer spa ultimo aggiornamento 6 novembre 2021 cos'è androccur soluzione a rilascio prolungato confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere androccur soluzione a rilascio prolungato durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è androccur soluzione a rilascio prolungato androccur soluzione a rilascio prolungato è un farmaco a base del principio attivo ciproterone acetato appartenente alla categoria degli antiandrogeni e nello specifico antiandrogeni non associati è commercializzato in italia dall'azienda buyer spa androccur soluzione a rilascio prolungato può essere prescritto con ricetta rnr medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta confezioni androccur 300 mg barra 3 ml soluz in it a rilascio prolungato per uso immunofiala 3 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare buyer spa ricetta rnr medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta classe a principio attivo ciproterone acetato gruppo terapeutico antiandrogeni forma farmaceutica soluzione a rilascio prolungato indicazioni trattamento antiandrogeno nel carcinoma prostatico inoperabile nb l'uso di androccur non è indicato nelle donne posologia modo di somministrazione le iniezioni devono essere somministrate molto lentamente vedere anche sezione 44 androccur è destinato esclusivamente all'iniezione intramuscolare si dovrà prestare particolare attenzione al fine di evitare l'iniezione intravasale posologia 1 fiala alla settimana sotto forma di iniezione intramuscolare profonda si raccomanda di non interrompere il trattamento né di ridurre la posologia a seguito di miglioramento o remissione ulteriori informazioni per categorie particolari di pazienti bambini e adolescenti l'uso di androccur non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti maschi al di sotto dei 18 anni a causa dell'insufficienza di dati sulla sicurezza ed efficacia androccur non deve essere somministrato prima del termine del periodo puberale per la possibile influenza negativa sulla crescita staturale e sulla funzione endocrina ancora immatura pazienti anziani non ci sono dati che indichino la necessità di un aggiustamento del dosaggio in pazienti anziani pazienti con compromissione della funzionalità epatica l'uso di androccur è controindicato nei pazienti affetti da epatopatie fino a normalizzazione degli indici di funzionalità epatica pazienti con compromissione della funzionalità renale non ci sono dati che indichino la necessità di un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione della funzionalità renale controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti malattie epatiche sindrome di dubin johnson sindrome di rotor tumori epatici in atto pregressi ad eccezione di quelli da mitastasi di carcinoma prostatico malattie debilitanti ad esclusione del carcinoma prostatico inoperabile grave depressione cronica processi tromboembolici in atto pregressi gravi forme di diabete con vasculopatia anemia drepanocitica androccur non deve essere usato nei pazienti con meningioma o anamnesi di meningioma avvertenze speciali e precauzioni di impiego fegato manifestazioni di tossicità epatica diretta come ittero epatite ed insufficienza epatica sono state osservate in pazienti trattati con androccur a dosaggi pari o superiori a 100 mg sono stati vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sebbene non siano stati effettuati studi clinici di interazione essendo questo farmaco metabolizzato dal chip 3 a 4 si ritiene che il chetoconazolo l'itraconazolo il clotrimazolo il ritonavir e altri potenti inibitori del vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere androccur soluzione a rilascio prolungato insieme ad altri farmaci come aurantin carbamazepina e g dintoina dintoinale fenitoina icma gamibeta complex gardenale luminale compressa misoline oxcarbazepina tecnigen compresse rivestite tegretol tolep eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere androccur soluzione a rilascio prolungato durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere androccur soluzione a rilascio prolungato durante la gravidanza e l'allattamento se assunto per parecchie settimane androccur inibisce la spermatogenesi per effetto dell'azione antiandrogena e antigonadotropa il recupero della spermatogenesi avviene gradualmente entro alcuni mesi dall'interruzione della terapia il trattamento con vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari i pazienti la cui attività richieda un elevato grado di attenzione per esempio autisti utilizzatori di macchinari debbono essere a conoscenza che androccur può provocare astenia e riduzione della vitalità e compromettere la capacità di concentrazione effetti indesiderati i più frequenti effetti indesiderati associati all'utilizzo di androccur sono la diminuzione della libido la disfunzione erettile e l'inibizione reversibile della spermatogenesi i più gravi effetti indesiderati associati all'utilizzo di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio studi di tossicità acuta a seguito di somministrazione singola hanno dimostrato che il ciproterone acetato il principio attivo di androccur può essere classificato come praticamente non tossico non sussiste pertanto alcun rischio di intossicazione acuta in caso di somministrazione accidentale di una dose anche diverse volte superiore a quella terapeutica proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antiandrogeni non associati codice atc g03 a 01 ciproterone acetato androccur è un preparato ormonale ad azione antiandrogena nel corso del trattamento con androccur libido e potenza sessuale vengono proprietà farmacocinetiche assorbimento in seguito alla iniezione intramuscolare il ciproterone acetato in soluzione oleosa viene rilasciato lentamente e completamente distribuzione nel siero la concentrazione massima 180 più meno 54 ng barra ml viene raggiunta dopo dati preclinici di sicurezza tossicità sistemica i dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute tossicità riproduttiva l'imibizione temporanea della fertilità nei ratti maschi elenco degli eccipienti olio di ricino per preparazioni iniettabili benzile benzoato fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato